Match day, buongiorno ragazzi, buon lunedì e siamo tornati qua a parlare della Juventus perché questa sera andremo in campo, scenderemo in campo a Genova contro la Sampdoria in una partita che è delicata perché è la prima trasferta stagionale, perché la Sampdoria non pare una squadra irresistibile e perché comunque l'Inter e Napoli sono andati avanti vedremo cosa farà la Roma alle 18.30, ieri sera Milan e Atalanta hanno pareggiato quindi un'occasione d'oro per inseguire quelle che hanno vinto, recuperare punti a quelle che hanno pareggiato e soprattutto non lasciare indietro punti contro squadre assolutamente sulla carta abbordabili decisamente alla tua altezza, superiori, siamo superiori a squadre come Sampdoria, Sassuolo, poi è ovvio l'incidente di percorso ci sta, lo stop ci sta, nell'ultimo video pubblicato qua sul canale ieri parlavo delle partite di Premier League dove il Leeds e dove il Newcastle hanno fermato corazzate come Chelsea e Manchester City, credo anche che il livello delle squadre più piccole in Premier sia molto più alto rispetto a quelle delle squadre più piccole in Serie A, ma allo stesso tempo è vero, anche Manchester City e Chelsea sono più avanti rispetto alle big italiane, quindi dovrebbe esserci una sorta di equilibrio, non lo so, forse avverto molto più dislivello in Italia rispetto a quello che ho visto in Inghilterra, nonostante ci siano state tantissime sorprese già in queste prime giornate di Premier, voglio sapere anche un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti e la discussione del giorno, dato che stasera si giocherà e la formazione, la probabile formazione recita Perini in porta, Alessandro e Danilo gli esterni di difesa, Rugani e Bremer i due difensori centrali, Lugatelli davanti alla difesa, McKennie, Rabiola e Mezziali, Costice, Quadrado gli esterni e Vlaovic davanti, perché Danilo e Rugani e non Federico Gatti? E qua ragazzi c'è da interrogarsi, credo che la risposta in realtà sia abbastanza scontata, poi magari giocherà Gatti e sarò contentissimo e questo discorso verrà smontato completamente, ma la semigliana Allegri ce l'ha sempre detto, ha sempre fatto una distinzione tra giocatori giovani e giocatori senza esperienza e Federico Gatti sicuramente non è uno dei più giovani dell'Aura Sala Juventus perché stiamo parlando di un classe 98, per intenderci un anno in meno soltanto di Federico Chiesa o di Bentancur, dato che Bentancur è un 97, stiamo parlando di un calciatore di un anno più giovani di Bremer per dire che è un classe 97, quindi non stiamo parlando di un giocatore di primissimo pelo come può essere Miretti, come può essere Sule, comunque sono stati utilizzati da Massimiliano Allegri sia l'anno scorso ma soprattutto già nella prima apparizione con il Sassuolo, tra l'altro Sule credo che abbia fatto più minuti l'altro giorno con il Sassuolo che in tutta la passata stagione, quindi non è un discorso di età, è un discorso di esperienza all'interno di un campionato così difficile e complicato rispetto a quello della Serie B come può essere quello della Serie A. Sono d'accordo con questa opzione? No, certo che no, perché se faccio un ragionamento molto banale, se Bonucci e Bremer è la coppia titolare sulla carta, ok? E Rugani la prima riserva significa che Gatti non viene considerato pronto oggi per essere un giocatore importante e una squadra che ha Daniele Rugani come prima riserva non mi sembra una squadra di primissimo pelo per quanto riguarda anche un campionato come la Serie A e soprattutto non si sta considerando Federico Gatti un giocatore importante per la prima squadra ma soltanto un giocatore aggregato, allora non si spiega magari perché siano stati spesi quasi 10 milioni di euro a gennaio per accapararsi il cartellino, che non significa, attenzione, non è che se non gioca stasera è bocciato per tutta la stagione, però poteva anche essere il modo migliore, il modo principale per fargli assaggiare la Serie A. Poi io sono davvero convinto che Allegri ragioni sul binario del non ha mai giocato in Serie A, è troppo difficile metterlo titolare subito in Serie A alla seconda giornata di campionato, che è un po' quello che non ha fatto invece per dire Luciano Spalletti con Conquara, ne abbiamo parlato anche nel video di ieri, fatto subito il suo, ribadisco, sì contro squadre minori magari se vogliamo come Verone e Monza ma comunque l'ha fatto. A me questa cosa di non voler riconoscere i meriti alle squadre quando vincono perché magari vincono contro squadre sulla carta inferiori, non lo capirò mai, non lo capirò mai perché comunque la prestazione c'è e magari la squadra inferiore non ha la possibilità di fare nulla perché, ribadisco, le sorprese ci possono essere, la Sampdoria stasera può benissimo vincere contro la Juventus e se non vincerà sarà magari perché la Juve avrà fatto lo suo. Io non ho voglia sempre di tornare sui discorsi perché il calcio sembra costruito per pacchetti ormai, ormai scusatemi vado un po' fuori dai binari però tante volte nei commenti mi ritrovo qualcuno che mi dà dell'allegriano e qualcuno che mi dà dell'antiallegriano e come ben sapete per me non c'è cosa peggiore delle etichette per un motivo, racchiudono un pensiero confuso all'interno perché io un giorno passo per una cosa, un giorno passo per l'altra, fermo restando che parare per etichette non solo di calcio ma di qualsiasi cosa nella vita è riduttivo perché si parla solo di estremi, perché non mi metterò mai nella condizione di elogiare al 100% una persona, un tesserato della Juventus su un protagonista o nella posizione di difenderlo al 100% perché per quanto mi riguarda ci sono delle cose che sono fatte bene e delle cose che sono fatte male e quindi non mi troverete mai qua a ripetervi a pappagallo sempre la stessa cantilena. Invece purtroppo ci sono delle persone che hanno iniziato da tempo, forse da sempre, non lo so se per un discorso di evoluzione social, se è un discorso che veniva effettuato anche al bar, io questo non lo so, ma delle persone che ragionano e non vogliono parlare di calcio davvero, vogliono soltanto esprimere la loro opinione, perché chiamare Allegri acciughina, il cagon e tutta questa roba qua, dire che non è un allenatore, ragazzi non si sta esprimendo un concetto, non si sta dando una preferenza, non è un discorso del posso dire quello che mi pare perché è un'opinione, qua si sta mancando di rispetto, esattamente come quelli che tuttora, perché poi c'è la fazione, no hai capito, c'è il giochino tra le parti, tra gli estremi, internet è terrificante per queste cose, perché si prendono proprio delle bandiere, quelli che oh Allegri ci ha fatto vincere quindi lo voglio difendere, quelli che no Allegri mi sta sulle palle quindi lo voglio offendere e nel ciclone entra Maurizio Sarri, perché esattamente si parla per filosofia l'opposto rispetto a quello di Allegri e allora c'è ancora gente che chiama Sarri il benzinaio, che dice che è stato il periodo peggiore per la Juventus, che non gli riconosce neanche i meriti per aver vinto, per aver vinto, è terrificante questa cosa ragazzi, è terrificante, con questi binari si respira sempre un'aria terrificante all'interno della Juventus, terrificante per i tifosi della Juventus che devono sempre dividerci in due fazioni, dire sempre delle cose per fare in modo che la loro idea a loro appaia ma anche a costo di confutare la realtà stessa, ragazzi mettiamoci nell'ordine dell'idea che la Juventus rimane la cosa principale, che ci sia Allegri, che ci sia Sarri, che ci sia Pirlo, come Pirlo che era il non allenatore, il novellino, c'è questa voglia sempre di sminuire per dimostrare di aver ragione, ma perché? Ma per quale motivo? Ma accettate il fatto che con Allegri si è vinto, accettate il fatto che con Sarri si è vinto, accettate il fatto che pure con Pirlo si è vinto, e sono stati tutti allenatori che qualcosa nella storia della Juve l'hanno portata, l'anno scorso non si è vinto, perfetto, e allora ripartiamo, ci sta non aver fiducia, questo è basilare, basti anche vedere campagna acquistica che abbiamo fatto fino adesso, ragazzi, io non è che sia proprio entusiasta di quello che è accaduto fino adesso, però non è che mi metto qui, un conto è se si vuole fare l'ironia e si scherza, ma un conto è quando si vuole veramente entrare nella cattiveria, nelle offese, qui non si tratta di non posso dirlo, perché non posso dirlo? Io la penso così, certo che lo puoi dire, ma tu puoi dire che Allegri non ti piace come allenatore per x motivi e me li elenchi, invece che dire è un cagon che non sa allenare? Puoi dirmi che non hai apprezzato Maurizio Sarri, nonostante lo scudetto, per x motivi senza dire che è un benzinaio del cazzo che foma in tuta? Ma perché? Io è una roba che veramente non riesco a capire, poi si vede che poi tante cose su internet spingono ad andare in queste direzioni e internet è un posto creato per generare iterazioni e io stesso ci campo su queste iterazioni, però ragazzi ogni tanto è anche abbastanza svilente, devo dire la verità, pubblicare un contenuto e ritrovarsi una piccola frangia, perché non stiamo parlando di tante persone, ma sono sempre quelle che fanno più rumore, che di calcio non hanno voglia di parlare. E anche quando magari porti dei video con dei dati, e i dati sono lì, sono sotto gli occhi di tutti, i dati li rinterpretano a loro piacimento, per dimostrare che la loro idea è giusta. E allora sono felice di passare per quello che un giorno è allegriano e un giorno è antiallegriano. Intanto perché non sono identificabile nell'interno di un'etichetta. E in seconda battuta perché a seconda di quello che vedo, semplicemente poi cambio il mio giudizio. Allegri ha vinto? In passato con la Juve sì, anche tanto. E quella roba lì per me rimane lì, perché quello che mi ha dato Allegri in quegli anni è stato incredibile. Sarri ha vinto con la Juventus sì, e per me quello rimane lì, perché quell'anno lì di Sarri, in tante difficoltà, lo scudetto poi è stato portato a casa. Pirlo ha vinto con la Juventus sì, e per me quelle due coppe rimangono lì. E ribadisco, non significa che, oh Dio, Sarri, Pirlo, Allegri, gli allenatori più bravi del mondo, no. Però ho avuto delle emozioni all'interno di quelle stagioni, che sono state sia positive che negative, perché io per l'ultimo anno di Allegri ero tranquillamente convinto di dover cambiare, perché si era così un ciclo. Io con Sarri sarei andato avanti, perché non ha senso prendere Sarri e poi salutarlo. Io per Pirlo avrei cambiato. Poi devo dire la verità, oggi, dopo la stagione che c'è stata l'anno scorso con Allegri, un pochino la sto rivalutando la mia posizione, l'ho rivalutata. Ma perché le persone intelligenti, ragazzi, l'idea la cambiano. Non partono dentro i binari fissi così. Non ha senso partire per i binari e pensare sempre la stessa cosa, a prescindere da quella che è la realtà. Non ha senso. E l'anno scorso ero convinto che Allegri non fosse la persona giusta per questa Juventus, ma avevo comunque speranza di poter far bene. Come la speranza di poter far bene ce l'ho anche quest'anno, nonostante una rosa che non mi sembra completa in questo momento. E vediamo, sto Depay, sto Parede, sto terzino-sinistro, lo prendono, lo prendono. Qualcuno esce o non esce. Il fatto già che giochi Rugani al posto di Gatti mi triggera. Mi triggera. Però Allegri ha sempre preso questa strada, l'ha fatto anche con Paolo Di Bala. e non significa che avesse bocciato Di Bala. Di Bala poi è stato uno dei giocatori che ha giocato di più in assoluto con Allegri. È stato uno di quelli che ha reso meglio con Allegri. Perché anche questa storia che chi ama Di Bala devo dire Allegri, chi ama Allegri devo dire Di Bala. Ma cosa sono queste regole qua? Ma che regole sono? Ste cose che Sarri non è il mio allenatore, Fir non è il mio allenatore, Allegri non è il mio allenatore, possono piacere o non piacere. Ma quando sono all'interno di una squadra, sono il tuo allenatore, per definizione. Perché sono allenatore della squadra che tifi. Possono non rappresentarti certo, indubbiamente. Ma non ha decisamente senso andare contro gli allenatori. E ve lo dice uno che, ribadisco, Pirlo l'avrebbe cambiato. Ma se fosse rimasto Pirlo avrebbe comunque avuto il mio supporto. Perché comunque allena la squadra che tifo. invece c'è questa sensazione continua di volerti fare più l'idea che la Juventus in un lato o nell'altro. Perché l'anno scorso c'era gente che mi diceva ma come fai a mettere, a puntare il dito contro Allegri o solo a muovere una critica verso Allegri che ha fatto un miracolo. Ragazzi quando arrivi quarta alla Juventus non è un miracolo. Non lo è. È un fallimento. Lo dice la storia della Juve, non lo dico io. Sono degli standard a quali la Juventus si abitua. Come puntare il dito contro Allegri quando si vinceva? Certo lo puoi criticare per cose che magari non ti piacciono in campo ma se prendi la ciccia grossa Allegri ha vinto. Allegri ha fatto. Sarri ha fatto. Sarri ha vinto. Pirlo ha fatto. Pirlo ha vinto. Conte ha fatto. Conte ha vinto. Si vuole sempre sminuire. Come era sminuire il Napoli ieri. Si vuole sminuire gli operati degli allenatori. Si vogliono sminuire. Ma c'è gente che addirittura per andare contro Sarri dice che è stato Sarri a distruggere la mentalità vincente della Juventus e che oggi ci troviamo in questa situazione per colpa di Sarri. Quando Sarri ha lasciato da vincitore. Non ha vinto in Champions, certo. Non ha vinto la Coppa Italia. Non ha vinto la Supercoppa. Ha perso due finali ma lo scudetto l'ha vinto. Come quelli che mi passano Allegri per uno che non ha la mentalità vincente. Ma ragazzi ma Allegri è uno di quelli che ha vinto di più in Italia. Forse è quello che ha vinto di più in assoluto in Italia. Ma come fa a non avere la mentalità vincente? Poi è ovvio che ci sono delle meccaniche dentro. Ci sono delle dinamiche all'interno delle società. All'interno delle squadre. Ieri vi parlavo di non essere convinto dalla cessione di Zaccaria. E oggi mi viene da dire allora perché Rabiot era stato, non dico messo sul mercato perché non è vero, è arrivata un'offerta, si era accettata, si va. Però oggi è già titolare. Lo sapevo perché ve l'avevo già detto tempo fa. Non aspettatevi Rabiot fuori rosa. Aspettatelo delle due titolare. Però una squadra che vuole cercare di fare le cose veramente fatte bene. Se un giocatore è disposto a cederlo. Cioè non ci può essere una linea sottile che non è sottile perché parti da lo cedo a se rimani invece è titolare. Cioè c'è una differenza sostanziale tra lo cedo ed invece è titolare. C'è una differenza sostanziale tra un giocatore lo prendo a gennaio e gli faccio tre anni di contratto o lo vendo dopo sei mesi. Queste sono cose che io sinceramente non riesco a concepire. Per questo sono anti-agnelliano perché sto dicendo che la dirigenza sotto questo punto di vista ha fatto una cosa che trovo illogica. No. È semplicemente un'opinione. Se fossi qua a dire arriva bene, è un fumatore di Malboro, è Cherubini, è uno da merino vestito bene incompetente. Perché tante persone vogliono sentirsi dire queste cose qui. Tanti vogliono sentirsi dire questo. Che sono tutti incompetenti, che sono tutti deficienti, che dovrebbero andare tutti a casa. Perché se no non stai dicendo la verità. No, io dico la verità. Io parlo di pallone. Ragazzi, magari qualcuno non è interessato al gioco del calcio. Non mi interessa. Se qualcuno è più interessato al gossip rispetto al gioco del calcio. Benissimo. Benissimo. Affaracci vostri. Poi è ovvio che tante cose non mi piacciono e mi danno fastidio e le dico. Però qua si sta andando veramente oltre il gioco del calcio. Si sta andando a minare dentro ai rapporti interpersonali con le persone, con i tesserati. Tante persone non riescono più a sopportare Allegri per le conferenze stampa. Gli dà fastidio. Ammetto, l'anno scorso e quest'anno le conferenze stampa di Allegri non è che siano state chissà che cosa. Ce ne sono state due degne di nota in cui veramente ho detto, finalmente hai iniziato a dire delle cose diverse, hai iniziato a dire delle cose che condivido. Perché tutte le altre erano un gioco di nascondere quello che voleva dire e non vuole dire niente. Però non è che sento parlare Allegri e ho l'istinto di ucciderlo. Tante persone sì. E allora mi chiedo perché le guardate? Non guardatele più. Fregatevene. Cioè se una cosa vi dà fastidio non guardatela. Perché poi qua si sfocia nell'odio, nell'odio puro. Cioè nell'ossessione. Perché io continuo a leggere davvero gente che mi parla di Conte, gente che mi parla di Sarri, gente che mi parla di Pirlo, gente che mi parlava di Allegri quando c'erano Sarri e Pirlo. Sempre descritto distorcendo la realtà a piacimento. Invece bisognerebbe semplicemente accettare che anche persone che non ci fanno impazzire magari sono brave in quello che fanno. O semplicemente accettare magari che uno come Allegri che aveva vinto in passato adesso non ha vinto e quindi sicuramente ha delle responsabilità delle colpe. Ma che male c'è ad accettarlo? Che male c'è a dirlo? Non c'è male. Anzi è peggio il contrario. È peggio dire che Allegri è incompetente quando vinceva o è peggio dire che Allegri è perfetto adesso che non vince e l'anno scorso sinceramente a me non ha convinto. Cioè ci sarà una linea di mezzo tra l'etichetta dell'allegriano e dell'antiallegriano. Come ci sarà una via di mezzo tra Rabio cederlo e mantenerlo in rosa da titolare. Come ci sarà un'etichetta da quel giocatore come Zaccaria mi interessa quindi lo porto alla Juventus perché mi può essere utile al cederlo dopo sei mesi. Poi certo c'è un discorso di liste, c'è un discorso numerico, c'è un discorso di bilanci. Non è sempre così semplice però mi aspetto che nel momento in cui fai delle decisioni di mercato in cui si muovono dei milioni di euro tu possa essere convinto perlomeno di quello che si sta facendo perché sennò diventa veramente molto complicato. Siamo partiti da un discorso a caso, gatti rugani e siamo finiti a parlare tutt'altro. Perdonatemi ma ogni tanto certe cose partono perché io leggo tutto, io sono una spugno, io assorbo tutto ed essere già la seconda, neanche a poche ore dalla seconda giornata di campionato già con i pozzi avvelenati, con le fonti avvelenate e con le guerre ideologiche, con paladini disposti a morire per le loro idee veramente... è terrificante, io lo trovo terrificante perché la Juventus sembra solamente il contesto, una cosa che passa in secondo piano. A me non piace, cosa vi devo dire? Non offenderò mai nessuno per questa roba, ognuno sarà comunque libero di viverla così, però continuerà a non piacermi.